Siamo tornati qui in diretta da Radio Design dell'Istituto Italiano di Design, io sono sempre qui, Nicola Palumo, docente di web marketing. Oggi abbiamo un ospite particolare, abbiamo un giornalista Rai, Valeria Radiconcini. Un saluto a tutti. Allora, perché è molto interessante questo ospite? Perché è importante capire anche le varie professioni che riguardano poi la comunicazione. E chi se non appunto un giornalista Rai che raggiunge poi il picco massimo dell'aspirazione di un giornalista, cioè approdare in Rai. Allora ti chiedo, qual è stata la tua formazione e come sei arrivata in Rai? Partiamo dal fatto che sicuramente è piuttosto utile farsi una buona formazione all'università. Chiaramente poi... Tu cos'hai studiato? Io ho studiato scienze politiche e devo dire che per la mia esperienza è una facoltà adatta perché dà un buono spettro di conoscenze, sia dal punto di vista economico che giuridico. Un background storico abbastanza solido, insomma, dà tutte quelle competenze di base che poi aiutano a orientarsi su tanti temi. Perché poi un po' la caratteristica del giornalismo è quella di dover affrontare tanti temi ogni giorno e anche un po' all'improvviso. E poi ho fatto la scuola di giornalismo a Ponte Felcino e chiaramente è stato un passo di formazione importante perché la possibilità di studiare solo giornalismo per due anni con una buona strumentazione dei buoni docenti chiaramente aiuta parecchio a formarsi appunto quel background che poi è spendibile un po' ovunque, sia per la radio che per la tv che per la carta stampata. Sì perché poi è importante spiegarlo nel senso che ci sono sostanzialmente se non sbaglio due strade, cioè o diventi professionista tramite tante avventure rocambolesche oppure lo diventi attraverso la scuola di giornalismo. Non sbaglio, questi sono i due... Diciamo che anche le scuole di giornalismo non ti esentano da avventure rocambolesche, nel senso che si possono incontrare collaborazioni più o meno pagate, più o meno regolari, con degli orari più o meno normali, però insomma diciamo che si paga uno scotto all'entrata. Sicuramente il vantaggio di fare le scuole di giornalismo è quello di avere una formazione organica. Certo, sì perché poi si rischia sempre che magari chi vuole fare giornalismo viene abbandonato a se stesso, ti dicono vai lì, lanciati, fai il pezzo su questa cosa senza spiegarti cos'è un pezzo, come si fa l'attacco, che cos'è un ufficio stampa, che cos'è il giornalismo. Sì, buttandoti subito sul pratico rischi di incappare in qualcuno che ha già perscontato tante tante cose. Sì, quello che è successo a me sostanzialmente, che ho fatto tanti anni in giornalismo, non ho preso poi il patentino, se ci riesco a gennaio, attenzione, scupe di Nicola Palupo. Grazie, quindi tu sei partita, tu sapevi già che volevi fare il giornalista quando eri all'università oppure una cosa che ti è venuta poi successivamente? Quando ero all'università lo avevo già deciso, avevo già pensato che sarebbe stata quella la strada, in realtà comunicazione in generale, nel senso che sicuramente giornalista poi sarebbe un po' di peso da quello che sarebbe successo, insomma radio, tv, carta stampata, ufficio stampa, che è un lavoro difficile tra l'altro. Di solito non viene preso in considerazione sufficientemente, in realtà per farlo bene servono dei veri professionisti e non basta qualcuno che sa scrivere bene. È vero, è vero. Sognavi sempre di approdare in Rai e fare quello che fai oppure eri più per appunto la carta stampata? Mi piaceva la parte radio tv, onestamente poi riuscire ad arrivare in Rai è stato sicuramente un obiettivo che forse all'inizio neanche mi ero posta, mi sembrava un filino eccessivo, però fortunatamente con un po' di impegno è andata bene, mettiamola così. Da quanti anni che sei già in Rai? Dal 2013, sono quindi ormai cinque anni e qualcosa. Ah bello. Di tutte le cose su cui hai lavorato, qual è stata la cosa più bella, qual è stata la cosa più difficile? Raccontaci i tuoi momenti topici della tua esperienza giornalistica. Sicuramente venendo da un'altra regione la cosa più impegnativa all'inizio è stata entrare un pochino nei personaggi, nei luoghi, nelle dinamiche locali, che poi è la cosa principale dovendo poi raccontare determinate situazioni, spesso per fare un buon servizio a chi ci ascolta è importante tanto descrivere quello che sta succedendo quanto riuscire ad inserire il singolo evento nel quadro, perché altrimenti l'informazione è incompleta, è solo parziale. Poi ecco, chiaramente ci sono delle situazioni che sono, ognuno in base alla sua sensibilità, più interessanti o meno. Io ho trovato sempre particolarmente stimolanti le dirette da Assisi, in particolare quella in cui è venuto anche Papa Francesco. È stata onestamente una giornata molto impegnativa, ma anche molto molto appassionante. È un contesto internazionale con la possibilità di fare interviste anche in altre lingue e poi ecco, come dire, il personaggio principale era decisamente interessante. Decisamente, sì. Infatti c'ero anche io, mi ricordo, come fotografo, insomma, non come giornalista, però sì, è vero. È sempre bello. E poi devo dire che i adassisti sono iperorganizzati. Ah, questo sì, assolutamente. L'abbiamo visto anche oggi. Gente mai così organizzata come i frati francescani. Veramente, complimenti. Un ufficio stampa pazzesco. Invece qual è stata, che ne so, l'esperienza che è stata più dura per te? Non so, magari qualche processo, qualcosa che hai seguito e che ti ha reso, diciamo, il lavoro un po' più impegnativo, anche da un punto emotivo, da un punto di vista emotivo. Beh, sicuramente un paio di occasioni di cronaca, cronaca nera, in particolare un processo in cui era stato assolto un uomo che si sospettava avesse ucciso una donna. Ma c'erano anche i parenti di questa donna e chiaramente dover parlare anche con loro è particolarmente impegnativo dal punto di vista emotivo anche. Diciamo che bisogna riuscire a fare un po' di filtro, non sempre è facile. È vero, è vero. Cosa suggerireste allora a chi magari vuole intraprendere questa carriera? Quali sono stati, non so, anche i tuoi errori? Magari hai perso tempo andando, non so, facendo alcune cose che si dice roccambolesche piuttosto che altre. Cosa bisogna fare e cosa non fare? Secondo me la prima cosa da fare già all'università se uno ha questo tipo di idea è scegliere bene che cosa studiare. Non sottovalutare il fatto che alcune competenze o alcune conoscenze che sembrano troppo lontane rispetto a quello di cui poi si andrà a parlare nell'immediato possono sempre tornare utili, ossia studiare bene l'Europa dicendo beh però chissà se magari nel mio primo lavoro mi faranno parlare della Commissione Europea. non importa, uno intanto accumula poi le conoscenze verranno fuori quando serviranno. Un errore da non fare direi non accettare troppo spesso collaborazioni non pagate perché non è un discorso tanto sindacale quanto proprio personale nel senso che qualcuno fa pensare di potervi dare una strada quando poi in realtà sta semplicemente traccheggiando un po' con il suo bilancio. Questo magari insomma se uno si toglie le prime piccole esperienze appunto a livello universitario poi crescendo un po' cercare di fare qualcosa in cui ci sia anche un riconoscimento personale. Ma questa è una mia piccola curiosità, il primo pezzo che hai scritto in vita tua su cos'era? Il primo pezzo in vita mia sul giornalino scolastico. Sì, ma proprio alle superiori? Sì, alle superiori ed era su politica estera. Ah proprio, sei partita dalla grandissima. Una cosa veramente impegnativa era la distruzione dei Buddha di Bamiyan da parte dei talepani. Ma proprio pesantissima come cosa. Sì, sì. Immagino che avremmo distribuito tante tante copie. Ma interessante, io ho scritto tipo sulle leggi sul fotovoltaico, mi ricordo questa cosa. Beh magari eri un po' più grande, era un po' più solito come cosa. Vabbè tu alle superiori già parlavi di politica estera, devo dire che... Con l'ingenuità dei ragazzi delle superiori. Eh bello, molto interessante. Adesso stai lavorando a qualcosa di particolare, qualche spoiler? Abbiamo qualche spoiler che ci può raccogliere? Ma in realtà qualcosa in particolare no, nel senso che viviamo giorno per giorno. Sì, infatti. Quindi andiamo a sapere già oggi che cosa farò domani, sarebbe quasi miracoloso. Allora, suggerisci due o tre giornalisti che per te sono il top e che qualcuno che vuole entrare in questo lavoro dovrebbe seguire come fonte di ispirazione. Ma forse singoli nomi non mi sentirei di farli, potrei consigliare sicuramente tanti colleghi delle nostre varie testate RAI. Da un punto di vista di cartaceo potrei sicuramente consigliare la lettura della stampa. Sempre per la politica estera. Non solo, non solo per quello. Poi secondo me ognuno deve scegliere un modello che sia un po' nelle sue corde, nel senso che io non sono dell'idea che uno debba avere per forza il suo faro, la sua stella polare. Diciamo che più che altro è la necessità di riuscire a tararsi, quindi forse più che su un giornalista in particolare, su una rete in particolare, su un giornale, su una radio, e riuscire un po' a entrarne nei meccanismi. Bello, bello. Ma tu come ti informi? Cioè tipo, che ne so, ascolti qualche programma di Radio RAI in particolare? Ma sicuramente un po' viene dal lavoro stesso, nel senso che la lettura costante delle agenzie un pochino aiuta a restare informati. Poi onestamente, che se ne dica, i telegiornali, anche nell'era del web, e della informazione continua e totale, servono decisamente. E la radio, la radio è fondamentale perché la senti ovunque, soprattutto ci sono canali come Radio 1 che la fanno praticamente quasi a ritmo costante, quindi sono un flusso di informazioni praticamente sempre a disposizione. Bene, allora grazie mille, ti abbiamo rubato pochissimo tempo, però è stato molto interessante. Speriamo di riaverti qui magari facendo qualche focus sulla politica estera, non sto scherzando, visto che è la tua passione, per parlare magari di tematiche sempre inerenti al lavoro di giornalista, e grazie ancora. È stato un piacere. Vediamo. Grazie.